E' passato relativamente poco da quando abbiamo testato il Dreamy V10 Pro, un ottimo aspirapolvere ciclonico senza fili, e già si torna a parlare dell'azienda cinese. Questa volta però tocca al Dreamy V9, il nuovissimo robot aspirapolvere da probabilmente economico, che almeno sulla carta ha tutte le carte in regola da potersela giocare anche con i modelli più blasonati. Ma questa volta recensiremo questo aspirapolvere con un'altra ottica, carissimi amici miei, si sono sempre io e sapete quanto io odio lo sporco consistente? Lo recensiremo con un'altra ottica perché siamo a fine 2020 e perché è il momento di ritirare le somme, e soprattutto perché questo aspirapolvere garantisce una potenza di aspirazione di 3000 PA, una numerosità molto limitata, una batteria molto prestante. Insomma, sulla carta diciamo che è uno dei più interessanti e quindi potrebbe anche essere eletto proprio come migliore aspirapolvere del 2020. Questo non ve lo dico ancora, fatto sta che però noterete nell'immagine della video recensione che è sporco, diciamo, noterete il robot sporco. E questo in genere è un buon segno perché vuol dire che io tra i 60 milioni di aspirapolvere che ho in casa, ho deciso di utilizzarlo come mio aspirapolvere principale, almeno per il primo piano. D'altronde se Xiaomi ha investito più di 14 milioni di dollari su Dreamy un motivo ci sarà, ma prima di capire qual è vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, scriverci quello che volete nei commenti però sulle cose belle, se vi va lasciarci un pollice in su e chiaramente iscrivervi a GizDeals, il nostro canale su Telegram, trovate chiaramente i link in descrizione. Bene, iniziamo! Dal punto di vista del design l'approccio di Dreamy è in linea con quello che hanno tutte le aziende del satellite di Xiaomi, cioè l'aspetto essenziale, privo di elementi inutili ed è molto pulito. Certo la colorazione bianca potrebbe tendere a sporcarsi più facilmente, ma nonostante la linea minima del Dreamy D9 si fa guardare con piacere, soprattutto grazie ad una piccola striscia di colore grigio ed un particolare tendente al rosso-arancione, poi dipende dal livello di daltonismo di chiloguarda nella zona della torretta laser, utile molto per la mappatura dell'ambiente. Superalmente i tasti sono tre, è un'ottima notizia, questo aspirapolvere vi piace molto perché quelli di Dreamy hanno pensato di separare i due contenitori. C'è un contenitore per lo sporco e un contenitore per l'acqua. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sono compromessi in quanto a capienza dei due contenitori, infatti quello dello sporco è capiente 570 millilitri, quello dell'acqua a 270 millilitri ed è un'ottima quantità perché, almeno nella mia esperienza, con questi due contenitori riesco a pulire almeno per tre volte l'ambiente superiore di casa mia che è circa 70 metri quadrati, quindi bravi. Di buona qualità anche la fascia ammortizzante, utile per gestire pochissimi impatti che dovrebbe supportare la struttura in fase di pulizia e lavaggio, inferiormente invece c'è un'unica spazzola laterale, una spazzola centrale e le due grandi ruote molto carrozzate ed ammortizzate che, a mio parere, sono una vera forza, gli permetteranno di superare qualsiasi ostacolo purché non sia più alto di circa due centimetri. Ok, però così come in qualsiasi altro aspirapolvere di questa categoria continua ad essere presente il problema della base di ricarica. Se seguite i video che facciamo sugli aspirapolvere sapete che io in genere quando si tratta di robot aspirapolvere lo dico sempre. Il problema non è nel funzionamento della basetta di ricarica perché funziona bene, il robot torna bene alla posizione di ricarica, il fatto è che queste basette le producono sempre con materiali troppo leggeri. E cosa vuol dire? Vuol dire che il robot in fase di pulizia o magari quando parte dalla basetta per iniziare la pulizia cosa fa? La sposta. E se la sposta poi incomincia a rincoglionirsi quando deve tornare a casa basterebbe una basetta un po' più grande, un po' più pesante. Personalmente ho risolto il problema mettendoci proprio dello scotch, diciamo incollandolo al pavimento. Però non tutti hanno questa voglia e credo che sia arrivato il momento, visto che si producono un robot aspirapolvere di questa qualità perché è veramente ottima, di risolvere anche questo problema. Serve una basetta più pesante, carissimi. Così come per tutti i prodotti dell'azienda di Xiaomi, anche la gestione del Dreamy D9 è affidata all'ottima Xiaomi Home, cioè l'applicazione con cui l'azienda unisce tutti i suoi dispositivi dell'ecosistema. Ed è proprio questa applicazione che dà una marcia in più agli aspirapolveri robot dell'azienda, compreso quelle di Dreamy. Dopo aver effettuato la connessione alla rete senza fili, è la prima mappatura che vi consiglio di fare senza alcun ostacolo, in modo tale da riuscire a dargli la possibilità di creare una mappa più precisa possibile. Il controllo delle diverse modalità di lavaggio e di aspirazione e tutte le funzionalità integrate nel robot si possono modificare e gestire con una semplicità estrema. Ed anche in lingua italiana, tra l'altro è in italiano anche la voce riprodotta dal robot. La gestione delle mappe delle stanze, che vengono create del tutto autonomamente, è identica a quanto abbiamo visto negli altri robot dell'azienda ed è possibile associare un nome ad ogni stanza in modo tale da facilitare sia la pulizia a zone che quella proprio a stanze. E per quanto riguarda la pulizia delle stanze è possibile anche decidere di fare una doppia passata, ma solo quando si pulisce una stanza alla volta. E poi chiaramente è possibile impostare le pulizie programmate e si possono gestire con molta facilità anche i muli virtuali e le zone di esclusione, che in questo modello possono essere di due tipi, sia per quanto riguarda il lavaggio che per quanto riguarda l'aspirazione. Io questa la trovo molto comoda quando per esempio per terra ci sono dei tappeti, tappeti che tra l'altro vengono rilevati dal dispositivo. Nelle impostazioni dell'applicazione è possibile attivare una opzione con la quale si dà l'ok al robot nel caso in cui dovesse trovare un tappeto di aumentare al massimo la potenza di aspirazione e in quel caso bloccare anche il lavaggio. Insomma, anche per quanto riguarda la gestione dei tappeti è ottima. Ok, se avete dei tappeti con delle frange particolari potrebbe avere dei piccoli problemi, ma nei tappeti più umani questo piccoletto riesce a fare un ottimo lavoro. Sempre tramite l'applicazione è possibile controllare lo stato di usura di alcuni dei componenti dell'aspirapolvere come il filtro, le spazzle e così via ed è possibile scegliere tra le sei diverse modalità di lavaggio e pulizia. Chiaramente la potenza di aspirazione è su tre livelli e tre sono anche i livelli per quanto riguarda la quantità d'acqua spruzzata sul pavimento. A proposito, per quanto riguarda il lavaggio, in questi robot asperapolvere in genere non si devono mettere detersivi. Perché fanno schiuma? C'è qualcuno che ci mette dell'aceto. Il problema dell'aceto è che ha dei piccoli granellini che rischiano di intasare l'ugello dal quale poi fuoriesce acqua. Io su Amazon ho trovato un detersivo fatto apposta per questi robot che sto testando in questi giorni. Vi dico la verità, ormai sono specializzato nella pulizia domestica. Detersivo che non fa schiuma, deudora e disinfetta. Vi lascio il link in descrizione. Le performance di pulizia sono proprio il punto forte del Dreamy D9 perché è uno dei robot asperapolvere più potenti e silenziosi attualmente in commercio. Il tutto è reso possibile grazie al motore Nidec che integra, che non solo garantisce una potenza di aspirazione di 3000 pa, ma è in grado di farlo con una rumorosità massima di 65 decibel, quindi è veramente silenzioso rispetto agli altri. E come vi dice, è talmente potente e silenzioso che io alla fine l'ho piazzato nello studio, stanza in cui hanno deciso di vivere per loro spontanea volontà, tre dei miei quattro cani. E devo ammettere che la qualità della pulizia ha la massima potenza del D9, è veramente eccezionale ed è in grado non solo di tenere testa alla polvere, ma anche ai peri dei miei animali domestici che tra l'altro non hanno mai portato ad un'ostruzione della cavità di aspirazione né delle spazzole. Quindi sotto questo punto di vista è davvero un portento. Il tutto poi è coadivato da 13 sensori distinti, un sistema di navigazione LDS, il supporto alla tecnologia SLAM, che permettono al D9 di portare al termine il lavaggio nel minor tempo possibile, evitando ostacoli, scale e così via. Insomma, in questo modo viene sempre utilizzato il miglior pattern disponibile e quindi anche la gestione della batteria migliora. Buona anche la modalità lavaggio, che è chiaramente più adatta a lucidare e disinfettare le superfici piuttosto che a togliere delle macchie ostinate, però permette di eliminare anche quello strato polveroso che si chiama sul pavimento, che a me è veramente da fastidissimo. Ottima anche la batteria da ben 5200 mAh, che alla minima potenza di aspirazione è in grado di offrire circa 150 minuti di autonomia, però ammettiamolo, personalmente tendo sempre a far funzionare il robot alla massima potenza, sia per quanto riguarda l'aspirazione che per quanto riguarda la quantità d'acqua, però sono rimasto soddisfatto anche in questo caso, perché per pulire un ambiente di circa 70 m2, lavando e aspirando, la batteria si scarica di circa il 30%. Il che mi lascia supporre che con una carica completa sarà possibile pulire ambienti superiori, anche se di poco ai 200 m2. Il fatto sta che qualora si dovesse scaricare la batteria durante la fase di lavaggio, il grandissimo amico robot cosa farà? Tornerà alla basetta, ricaricherà e poi continuerà la pulizia proprio da dove si è interrotto. Il prezzo di vendita del Dreamy di 9 e di 329€, ma tramite il nostro coupon che trovate in descrizione potrete portarvela a casa a 279€, questa cifra è proprio un affare. Perché non solo il nostro scontro lo rende tra i modelli più economici della fascia alta dei robot di questa categoria, diciamo così, ma perché è veramente uno tra i migliori della sua categoria. E soprattutto considerando il rapporto qualità-prezzo e la potenza di aspirazione che in effetti è effettiva, si vede la differenza. Insomma c'è veramente poco da criticare a questo robot aspirapolvere, devo dire la verità, io in genere sono piuttosto critico con i robot aspirapolvere, molto di più rispetto ai vacuum cleaner ciclonici, no? Devo dire che se quelli di Dreamy avessero pensato però ad una basetta più pesante, più solida, come dire, più fissa sul pavimento e magari di inserire la seconda spazio laterale, avrebbero potuto veramente produrre uno dei migliori, se non il migliore robot lavapavimenti e aspirapolvere del 2020. Ok ragazzi, questa era l'ultima recensione dell'aspirapolvere del 2020, lo so che vi mancheranno, lo so, ma non vi preoccupate che il 2021 sta per arrivare, corna facendo, insomma, speriamo che sia migliore. Il fatto sta che se volete chiederci qualcosa, potete farcelo nei commenti, lo sapete che noi vi rispondiamo sempre, se vi va, se vi è piaciuto il video o volete sostenirci, un pollice in su e iscrivetevi al canale, attivate la campanella, coloro non l'abbiate già fatto, visto che l'ho arrivato 500 volte. Io sono Dario Caliendo e ci vediamo al prossimo video su Giz.